Non ha senso iniziare a fare le ads, non ha senso, perché quello che avviene quando la gente inizia a scoprire il tuo business tramite le ads è che si inizia ad informare su di te. Allora io, prima di lanciare una campagna pubblicitaria, sto attento e vado a fare un setup, cioè vado su Google, digito il nome della mia attività o di quella del mio cliente e vedo cosa esce. A quel punto inizio a portare traffico, perché se io porto traffico su una roba che non ha riscontro poi sul web, sto buttando via soldi, perché molte persone non compreranno subito, andranno a cercare su Google e se su Google non esce niente e vanno a vedere la mia pagina Facebook ed è morta, io sto buttando via soldi per il traffico. Quindi prima fa il setup e addirittura io quello che faccio è pensare a quello che farà la gente dopo che mi ha scoperto, cioè portiamoci avanti nel pensiero, portiamoci avanti nel funnel. Se una persona oggi scopre il centro cinofilo dove c'è l'allevamento di cani, potrebbe avere delle domande, potrebbe chiedersi, ah ma i cani saranno trattati bene, potrebbero chiedersi, ma dove si trovano questi? Potrebbero chiedersi, ma ci sono delle recensioni? Ma avranno un sito web? E noi partiamo con le ads. Questa gente inizia a cercare su Google, cosa trova? Allora io se sono furbo, se sono un marketer furbo, preparo già il contenuto. Quindi posso già fare un video che ti mostra come trattiamo i cani nel nostro centro cinofilo. Posso fare un video che ti spiega, che ti fa vedere il tour e facciamo vedere come funziona la struttura. Posso già preparare delle recensioni su Facebook, me le preparo tutte prima, faccio il setup. Quando io ho lanciato l'attività di Alice come social media manager, che alla fine l'ho fatto da social media manager per il lancio del fitness program, io ho detto ok, tu adesso ti inizi a proporre con le ads, ma sta gente va a cercare il tuo nome su Google. Vediamo cosa esce. E abbiamo già preparato articoli, video, contenuti che presentavano lei in un certo modo. Se io dovessi partire domani con un nuovo business, io andrei prima a riempire il web di informazioni su di me, recensioni e tutto, e poi parto con le ads. Perché se tu parti con le ads ma poi non hai credibilità, quando la gente si va ad informare, butti via soldi, bruci tutte le vendite. Quindi se vogliamo usare bene il budget dei nostri clienti, assicuriamoci prima che ci siano le recensioni, che ci siano video magari su YouTube, che ci sia un sito web funzionante. E il top sarebbe anche addirittura degli articoli che parlano di lui, magari su riviste, giornali, eccetera. Un altro consiglio molto potente da SMM, segnatevela questa cosa, non l'ho messa nelle slide, però è quella di procacciare interviste per il vostro cliente. Interviste sui giornali, interviste su, non so, radio, a seconda di quello che è il settore. Però se ci sono riviste, giornali o radio, podcast, influencer, che parlano di quella cosa lì, di cui si occupa il vostro cliente, voi come social media manager potete mettervi in contatto presentandovi come la persona che gestisce il marketing per qualcuno. E guarda che è molto potente, perché se si presenta una persona che è il marketing manager di qualcuno, giornali, riviste, eccetera, aprono gli occhi, dicono, aspetta, questa è una persona seria, non mi sta contattando lui, mi sta contattando il suo manager, ok? E lì procacciate delle interviste, e lì già riempite il web di contenuti, capito? Già chi, il futuro cliente che troverà le ads, se va a cercare, trova l'intervista, trova il blog, trova l'articolo di giornale, ok? Quindi è molto importante questo.